L'Universia di Lagro Nocerino c'è e non solo come è comparsa. Negli impianti di Nocera Inferiore Pagani sono in programma eventi sportivi di ottima levatura. Allo Stadio di Sarno invece ci saranno delle sedute di allenamento. Nocera Inferiore farà da apripista mettendo a disposizione lo Stadio San Francesco e il Palazzetto dello Sport Palacoscioni, strutture ristrutturate. Le discipline in campo sono calcio e volley. Si comincia domani alle ore 20. In contemporanea con Napoli e Salerno ci sarà la cerimonia inaugurale. Prima della gara di calcio femminile Messico-Russia è previsto un recital della cantante lirica Anna Corvino che intonerà l'inno di Nocera scritto dalla professoressa Teresa Stajano. Poi eseguirà canzoni della tradizione popolare partenopea. Sarà il sindaco Maglio Torquato con la sua introduzione a dare il via al programma agonistico. Nell'intervallo del match è prevista l'esibizione del gruppo di sbanderatori di Nocera. La prima partita di calcio maschile è prevista per il 5 luglio tra Giappone e Argentina. Le altre squadre iscritte al torneo e che giocheranno al San Francesco sono Italia, Francia, Corea, Ungheria, Uruguay, Messico, Irlanda, Giappone, Argentina, Brasile e Inghilterra. Lo stadio Marcello Torre ospiterà altre gare di calcio. La prima il 5 luglio tra Francia e Brasile alle ore 18. Per il volley le gare si disputano al Palo Coscioni. Bisognerà aspettare il 5 luglio quando scenderanno in campo le nazionali di Taipei, Repubblica Ceca, Germania, Brasile, Argentina, Ungheria, Ucraina e Cina. Poi toccherà nei giorni successivi ad Hong Kong, Svizzera, Canada, Giappone, Francia e Messico. La finale del torneo è prevista per il 13 luglio. I biglietti sono disponibili presso il botteghino online del sito dell'Università di il costo dei singoli biglietti per le gare di 5 euro intero e di 3 euro ridotto quindi per gli under 18, gli over 65, le delegazioni, associazioni sportive, gli studenti universitari e i militari. Per le qualificazioni invece il prezzo di 3 euro. I biglietti sono disponibili anche prima delle gare ai botteghini degli impianti.